Toccherà all'ufficio viabilità del comune di Salerno studiare eventuali modifiche alla fermata degli autobus del CSTP, attualmente localizzata davanti la piccola villa comunale Maria Leventre di Passena, ritenuta dagli abitanti pericolosa. A promettere il sindaco facente funzioni Enzo Napoli, che ha fatto un primo sopralluogo nella zona per verificare di persona quanto segnalato a Palazzo di Città. La questione va avanti da quando la vecchia fermata degli autobus è stata spostata da via Roccococchia, tra la stazione della metropolitana a lato mare di Passena, la chiesa del Volto Santo, su via Raccioppi, in corrispondenza di uno dei cancelli d'ingresso dei giardini e anche della vicina scuola. Il tutto di fatto a pochi metri da uno stop ritenuto pericoloso dagli abitanti. Da qui la richiesta di riportare la fermata alla posizione iniziale, dove sempre secondo i residenti si creerebbero meno problemi anche per il traffico. La questione comunque sarà affrontata nel corso di un incontro, promesso dal sindaco, in programma per venerdì pomeriggio, per raccogliere anche altre segnalazioni sulla zona ed avviare una sorta di turno ai quartieri. Intanto ho preso già appuntamento con il consigliere Felice Santoro per un sovraluogo molto più ordinato e molto più attento, per ascoltare la gente, per verificare di persona le cose insieme a Felice Santoro e per capire quale risposte possiamo dare nel tempo e scadenzandole in un modo realistico, altrimenti si corre il rischio di fare demagogia. Io stamattina ero stato invitato per verificare un problema relativo ad una sosta bus per il Capolinia e sto verificando questo per questa mattina, sto verificando qual è la risposta che è possibile immaginare. Insieme ai tecnici del comune faremo un ragionamento e daremo una risposta. A venerdì prossimo nel pomeriggio ci vedremo con Felice Santoro e faremo un giro molto più ragionato, poi tenderemo di creare un cronoprogramma, di cadenzare delle risposte da offrire ai cittadini del quartiere.